La settimana dei nostri appuntamenti quotidiani di Qui Europa che oggi concludiamo è stata dedicata interamente all'agricoltura, al mondo rurale, cioè alla politica agricola comunitaria. Abbiamo visto che nell'immediato secondo dopoguerra vi era l'impellente esigenza di aumentare la produzione agricola per poter fornire alimenti alla popolazione. Evidentemente allora non vi era ancora una vera propria politica agricola comunitaria. Eravamo partiti nel 1951 con la Costituzione a Parigi della Comunità Europea per il carbone e l'acciaio, la ceca, la quale evidentemente non si occupava di agricoltura. Ciò nonostante alcuni stati si mesero d'accordo per trovare una soluzione per creare comuni norme per quanto riguarda l'agricoltura, soprattutto la Francia, peraltro che aveva già una buona produzione, era interessata a trovare sbocchi per i propri prodotti agricoli. Si costituì così il cosiddetto Green Pool, il quale fu caratterizzato da una serie di incontri che si svolsero a Parigi fra il 1952 e il 1954. Purtroppo alla fine per divergenze forti fra i vari stati che parteciparono, a loro erano addirittura 15 gli stati partecipanti a questi incontri di Parigi, non fu possibile raggiungere un accordo concreto. Siamo arrivati al 1957 con la Costituzione a Roma della Comunità Economica Europea, la quale ha previsto norme precise per quanto riguarda l'agricoltura. Norme che riguardavano evidentemente l'aumento della produzione, il sostegno dei prezzi ed anche il modernamento delle strutture agricole perché vi era un grande bisogno. Inizialmente comunque gli interventi furono orientati all'aumento della produzione. Sono stati attivati alcuni strumenti molto importanti fra cui il FEOGA, Fondo Europeo Agricolo di Orientamento di Garanzia, con il quale, con questi strumenti, sono stati sostenuti i prezzi agricoli per aumentare la produzione. Ad un certo punto peraltro si è arrivati ad un eccesso di produzione, il che ha creato evidentemente anche delle critiche, dei risentimenti da parte dei consumatori, da parte dei contribuenti. Vi sono stati ritiri di prodotti sul mercato attraverso ad esempio l'AIM, l'azienda Interventi Sul Mercato Agricolo, con iniziative evidentemente che hanno comportato un aumento della produzione. Va detto che la politica agricola comunitaria ha determinato anche momenti difficili, momenti di contrasto. Pensiamo alla metà degli anni Sessanta, quando il presidente De Gaulle, che vedeva i suoi interessi nazionali per quanto riguarda l'agricoltura non rispettati come lui voleva, decise la costituita politica della sedia vuota per sei mesi, dal luglio del 1965 al gennaio del 1966 abbandonò praticamente il Consiglio dei Ministri e non partecipò la Francia alla seduta del Consiglio dei Ministri e poi venne raggiunto il famoso accordo, il famoso compromesso di Lussemburgo grazie anche alla mediazione del ministro italiano Colombo. In seguito abbiamo avuto ulteriori sviluppi della politica agricola comunitaria, siamo arrivati ad esempio in tempi più recenti all'inizio degli anni 90 con la promozione di un'importante riforma che ha dato particolare attenzione anche all'ambiente, è cresciuta anche la sensibilità ambientale, poi abbiamo avuto l'agenda 2000 che ha previsto interventi di carattere generale nell'ambito dell'Unione Europea ma anche e soprattutto per l'agricoltura in previsione dell'ampliamento verso est dell'Unione Europea e poi siamo arrivati nel 2003 alla grande riforma promossa dal commissario europeo Fissler che ha previsto nuovi criteri, nuovi orientamenti con una maggiore attenzione all'ambiente, maggiore attenzione alla salute degli animali, maggiore attenzione alla qualità dei prodotti, cioè ci si è orientati sempre di più verso interventi quali non avessero come oggetto principale l'agricoltura in termini tradizionali ma l'agricoltura vista anche integrata con altri settori dell'economia. Evidentemente questo per creare sinergie e per creare condizioni tali per cui le attività agricole e le attività rurali potessero contribuire anche alla salvaguarda dell'ambiente. Questa nuova politica che è stata determinata sarà sviluppata nei prossimi anni e dovrà tenere presente evidentemente la nuova realtà determinata dall'adesione che è avvenuta il primo maggio scorso di nuovi dieci paesi all'Unione Europea. Una politica agricola dunque volta alla qualità, al miglioramento della vita e alla qualità della vita in termini generali.